l'orchestra ma come l'ha? ma non è vero? l'orchestra ma si è stato quello di il blade musica di giovedì ah e questo è una speciale è scritto da uno dei maggiori videogame di tutto il tempo il legendario Nobuo Utematsu Uematsu questo è l'orchestra di Game Awards led by Lauren Balfe con le vocali di Lauren Allred debuttando la canzone di Final Fantasy VII Rebirth lo fa Uematsu no ragazzi mi sto sentendo malissimo mi tremano le mani, guarda il main team di Rebirth ma è lì lui? no chi è? questa è la parata questa è Gol Sosa, ma è Lucrezia ma è Chaos quello trailer Senti, senti Vincent è un trailer è un trailer devo rivedere meglio che quel demone Erif capivo Senti dai bronco fai vedere di più Dyn e Brian Fury porca miseria oddio oh signore no 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 non me la farei vedere siamo ritornati nel mondo reale? no ma voglio il trailer allora non è il main team questa qua sarà una parte in cui al Gold Sosa Erif canterà e ci sarà questa canzone c'era Erif nel letto di morte con Zack che ah un bel metro di sperma potrebbe essere anche la canzone finale comunque di Rebirth ma Erif bravissima da un'altra questo è tutto quello che vorremmo di Rebirth oggi finirà il trailer dai è questo il trailer? no dai no sì sì bah Rebirth è finito il tema di Erif il tema di Erif e voi mazza si è portato lo stipendio è ben star è ben star di voi potevo essere in questo giorno brava lei è bravissima c'è lei? aspetta sì ci sta e non vedo l'ora onestamente a questo punto di provarlo aspetta un attimo e devo vedere quanto è grande infatti ah ecco eh fregatura ci siamo eh indietro ve lo metto forte ma che lingua è? inglese metti sub perchè io non capisco non ci sono in italiano no potremmo la nostra vicina sta andando a lavorare ci sono quelli automatici in inglese va bene che d'ora non abbia fatto da minuti a ote vi voglio non abbia fatto da minuti a ote e c'è ok ok Biggs, nella timeline di Zack, quelli sovravvissuti, sono morti tutti tranne Biggs, ancora il prison Questo è nuovo ma in realtà è Coz, vedere il nome giapponese di quello Titan Fenix e Bahamut Arise nel prossimo, il trabezzo Tain Altra timeline E qua c'è la canzone Quando si sveglierà si è venuto l'ammazza Però tutti quelli già segnati, questa è la scena, tutta la parte recitata No, no, no È tutto canonico fino a prova contraria Pena che io andrò a prova contraria Il Tiny Broma Che meraviglia La parte di Dynasar, aspetta, i prossimi tre le mostreranno Seto Ma cos'è? No, hanno mostrato l'ultimo In fondo, i prossimi tre le mostreranno Seto È qui È qui, ci saluta Fine E ci deve essere E ora in giapponese E ora nudi Entra Non entra, il trapezio non entra Questo, questo è per esempio il 16 Ma basta questo 16 Giapponese, coreano Per quanto Non è Briana No, no, la cantante è quella che hanno mostrato La lingua, sì, sì Ah, questo è Ghinatak, certo Ma sta pistola ce l'ha anche prima Sì, tu sei tu, Samurai Dove sta doppiando Dalla abrigio Qua è già tutti morti Eh Ma sarà nella mia Samurai Zank sempre Tu non lo attieni indietro? Mh? Tu non lo attieni indietro? La barca? Sì, sì Non l'ho visto Sono tutti visti da marinai Eh, adesso non lo danno Guardate grande Ma è la pistola che non sollevano Non lo danno, con voce a 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 sembra l'inglese ok nobuematsu che rosa ma sono lui? ah? sono sua di nojima no 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 nella scena con marlene è la stella timeline di zac quindi è cloud ancora mezzo ringoglionito dopo il finale che si scorre un po' un po' un po' un po' distorta perché magari non l'ha incontro si quella è tutta da scoprire è tutta da scoprire come questo cioè quando zac vive è tutta una cosa diversa il lume indietro la forma di lume torna indietro guarda proprio incappucciati questi sono i numeri e sei frotto che vola molto velocemente sei frotto che gira molto velocemente sono i numeri che ammazzano erico ma io non ho paolo questo cioè li aprei ma vediamo se adesso parte parte il programma